Musica Benvenuti a una nuova puntata degli sdraiati, persone e personaggi che risponderanno alle nostre terrificanti domande, circa un migliaio e noi oggi abbiamo ospite un campione bello piazzato qui sul nostro divano abbastanza preoccupato come quando si va dal dentista Domenico Marocchino No, no, quando si va dal dentista tu sei più attento, se tu noti quando vai dal dentista e esci fuori dal dentista i giocatori dentro l'area devono comportarsi come quando uno esce dal dentista, stare attento tutto perché hai paura del dolore Quando esci da qui? Quando esco da qua devo farmi una frebo per le tue domande Io volevo far notare che ho l'aureola, come bambini, perché i bambini piccoli a letto sono bambino piccolo Siamo qui un paio d'ore circa, noi ci devi raccontare tutto, ma in realtà saremo velocissimi Domenico Marocchino, soprannome? Che facile visto No, vabbè, ce ne sono due Allora, uno abbastanza fattibile che in Piamottese è Meku Domenico Tre ce ne sono, Meku L'altro è un po' più ambiguo che Marocco Sembra facile E poi uno che mi ha dato Brera che non mi dispiaceva, il pennellone Perché sei alto? Perché sono alto, come è alto, un personale è flessibile Ma quanti anni hai? Se si può dire in tv Io quanti anni hai? 56, no 65 65, portati bene, complimenti Grazie Professione? Lo sanno tutti insomma Professione? Beh, sono stato un calciatore, adesso sono giornalista un po' l'onore grosso Un dispensatore di stupiracili, no anche questo non è bello Sono un pensatore libero di calcio Non mi ero opinionista italiano, almeno vivente, vivente sicuramente Aspetta un secondo Perché calciatore? Come sei diventato calciatore? Così? Beh, per passione Per dono Dono nel senso, io penso che chiunque Che chiunque abbia delle caratteristiche personali Dei doni, delle propensioni Ecco, io, e lei è madre natura Io avevo la propensione di correre dietro un pallone E l'ho sfruttata più o meno bene Ma da bambino cosa volevi fare? Ma da bambino non avevo una Un... No, adesso tu stai già ridendo Da bambino stai già sorridendo Da bambino però non avevo questa grande propensione da dire Volevo fare il calciatore Volevo essere bravo a scuola Ecco, e materia preferita ai tempi della scuola? Tutte le materie letterarie L'italiano, tantissima la storia anche Potessi tornare indietro e avessi la voglia adesso di studiare Perché c'è sempre tempo come i greci antichi che studiavano anche un punto di morte Studierai storia dell'arte Fino filosofia e storia dell'arte Qual è stato il giorno più bello della tua vita? Domenico Marocchino? A parte questo evidentemente Evidentemente questo Il giorno più bello della mia vita E' stato quando sono passato No, il giorno più bello della mia vita E' una cosa che mi capita sovente Quando penso ai miei genitori E' quello più brutto? Quello più brutto è quando penso agli anni che ho E quindi il tempo che si restringe Il tuo primo ricordo è da bambino? La neve Io ho avuto la fortuna di vivere in una cascina povera Non quelle cascine gigantesche Quelle cascine dove c'è una mucca, un cavallo Due stanze solo, non c'è riscaldamento E il primo ricordo che c'ho è che quando sono uscito Sono tutti i ricordi infantili La prima volta che sono uscito che ero piccolo Che ho visto la neve nell'aia, sull'aia La prima volta che hai toccato un pallone? Beh, piccolino forse Sempre lì avrò avuto Allora c'era l'oratorio Avrò avuto 7-8 anni 6-7-8 anni Quale campione ti piaceva da bambino? Beckenbauer Franz Beckenbauer Italiano? Non ne è uno Italiano Gianni Rivera Gianni Rivera Dell'Internet Sud No, no, no Non c'è un giocatore Non c'è un giocatore preferito Ce ne sono diversi E chi è stato il più grande calciatore della storia? Pelè, penso Maradona, no? Eh, se la giocano quei due o tre lì Il poster che avevi in cameretta? Occhio, eh No, il poster che avevi in cameretta Siccome avevo solo in cameretta Avevo due stanze Dormivo con mia nonna E mio nonno Su un letto di materasso di piume Avevo la fotografia di mia nonna Al santuario di Lourdes Con tutta la sua Le sue amiche Una volta all'anno dai paesini Prendevano il treno Andavano a Lourdes E poi mia nonna Era l'unico svago Nella sua vita E' stato l'unico svago Nella sua vita E il cartone animato preferito? Esistevano all'epoca No, no, no Molti dicono No, ma non c'era Io come? No, Walt Disney No, no, no La mia infanzia L'ho fatta Due anni C'è due anni Quattro o cinque anni In una cascina Che c'era la televisione Ancora Quella che si vedevano due canali E basta E quindi non c'era neanche I cartoni animati E poi mi hanno messo Subito in collegio A undici anni E dai salesiani E dopo dei fratelli Della scuola cristiana Non ti facevano vedere La televisione Quindi non ho cartoni animati E per fortuna Lì ho potuto Conoscere una delle mie Approfondire Una delle mie Diciamo Passioni in assoluto Che è leggere Quindi ho letto Tutto Sandokan Tutta la vita Sì, sì Tutto Sandokan E tu pensa che Sandokan Eccolo lì Ecco È capir bene Sì ma quello per televisione Sanno che l'ha scritto Salgari Eccomeno Che abitava a Torino E non era mai nato via da Torino Tutta fantasia Salutiamo Capir Belli Salutiamo tutti Salutiamo tutti Naturalmente Va bene Anche la perla di Labo La saluta Ti piace Ti piace Cosa cambieresti Nel tuo corpo Non ci pensare troppo Eh no Ce n'è più Di Vorrei avere Qualche capello in più Bravo Ho detto te No io sto bene così Sai che trovo una certa Assomiglianza con Mieli Non so come mai Una collina Qualcuno pensava No no Mieli Mieli Figlio di Mieli Vabbè certo Allora Torniamo ai libri L'ultimo libro che hai letto Sono diventato Col passare degli anni Un giallista E Leggo Il ballo degli amanti perduti Di Farinetti Leggo Giallisti prettamente Ultimamente Piemontesi Sano anche Morchio in Liguria Vicky in Toscana Quelli che parlano Del loro territorio Canzone preferita O cantante preferito Insomma Anche lì non ne ho uno in particolare Ho delle voci preferite Quindi direi Tina Turner Bruce Springsteen Italiani? Italiani Italiani Ci sono messi invece Anche Rimmel Di De Gregori Dalla De Gregori Il mio amico Venditti Amore o amicizia? Amicizia Esiste l'amore? Non per me Esiste Esiste Ma è Nella stra maggioranza dei casi È a tempo Se sono più amori Amore Con due M Hai mai tradito? Siamo oltre Hai mai rubato? Siamo oltre No 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 Allora te lo dico io Una bellissima frase Se si può Per rinfrescare la memoria Dire che tutto è stato rosa Per me sarebbe un errore Le porto in faccia I fischi Come tanti altri Ho pensato Che sarebbe stato meglio Lasciar perdere Le donne O il calcio Che ho sempre messo Di sopra di tutto Mi hanno amato E tradito Ho tradito anch'io Sbagliando Per paura di essere tradito È la vita L'amore Ringrazio mille volte Il cielo Di avermi fatto passare Attraverso queste tribolazioni Che mi hanno permesso Di costruirmi un sogno E di viverlo Rifarei tutto Nella stessa maniera Se mi fosse possibile Questo è Un George Best No No È Charles Navor Ah Interessante Sei il calciatore intellettuale Insomma No Non è una questione Di calciatore intellettuale È una questione Di tenere allenata Una componente Molto importante Per noi Che è la memoria Una figura di merda Che hai fatto Vabbè lì Facciamo un altro blocco Poi Arrivare il mio unico Matrimonio Dopo la sposa Dopo E sicuramente Se arriva prima Se mi aspettavano Ho tardato un po' Poi la risposta Le data Sì no Sì no Eh Non dipendeva a me Dipendeva dal Testimone Va bene Mi hai fatto una canna Sì Drink preferito No Barbera Barbera Sai cucinare? Assolutamente no Non so neanche accendere l'acqua calda Sul 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 fornello Piatto preferito Piatto preferito Mangi però come tutti esseri viventi Mangi Ma piatto preferito Anche lì Se la giocano diversi Sono anche dei piatti Che non sono piatti Il salame Per me rimane Rimane sempre Una cosa molto importante Però io sono uno che Ah beh tu sei piemontese Quindi insomma Beh perché tu non mangi Sì assolutamente No io una bella Una volta ho fatto Addirittura retromarcia In autostrada Per riprendermi un pannino Landuia In Calabria Vicino Castrovilla Vicino Castrovilla Molto chiaro Dolce o salato Te l'ho chiesto? Tutte e due Tutte e due Ti piace Un piatto che ti disgusta A questo punto? Tutti quelli col formaggio Eccetto che non sia Parmigiano o reggiano Se tu mi dai un pezzo Di gorgonzola Mio padre era un commerciante In formaggi Io piuttosto di mangiare Un pezzo di gorgonzola Mangio Il poveretto lì Va bene Di che è il numero di telefono Della persona più famosa Sul tuo cellulare Presidente Mattarella No non c'era Mattarella No Non esistono delle persone famose Esistono delle persone Il luogo che ti rappresenta? Il luogo che mi rappresenta Siccome io voglio sempre Tornare bambino Voglio mantenere Questa Questa caratteristica Rimane sempre La chiesetta del mio paese A Tronzano Vercellese Dove giocavo Che avevo 6-7 anni Davanti alla chiesa Sei uno molto legato Ai ricordi? Sì Ma pur non essendo Uno Malinconico Esagerato Uno che non guarda Del futuro E' bello narrare E' autonarrarsi La prima cosa che farai domani mattina? Misurarmi la pressione Caffè no Anche se il mio dottore mi dice Prima fai colazione Fai due passi E poi misurati la pressione Ah sì? Sì Io anche io lo sapevo Stamattina me l'ha detto Perché l'ho misurata E mi ha detto No devi misurarla subito Facciamo anche un po' di medicina 33 Medicina 33 Su Telenove Perché è un programma così Non l'ho mai chiesto Il dottore Come mai si dice 33 Ah quando devi Ti misurano dietro 33 Non 75 Perché lo scioglilingue 33 Gratti Perché forse gratti Ah sì 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 Dopo la pubblicità Mi racconti della Juve Il calcio Di oggi Del passato Di cosa? Non ho capito Tra poco Domenico Marocchino Ah non posso neanche dormire No Vuoi un po' d'acqua? No 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 Come canta Regano Pappalardo Ricominciamo Vuoi cantarla? No No meglio No meglio Quella donna lì non l'ho avuta Caro Domenico Marocchino Allora ti faccio vedere Tre squadre Per gli amanti del calcio Naturalmente Tu mi dici qualche dettaglio in più Cominciamo dalla Vai Dall'Inter La grande Inter La grande Inter Quando si parla di grande squadra Si parla di grande gruppo E di grandi professionisti assieme Se no non può essere una grande squadra E lì faccio difficoltà A metterli in ordine Di valori Sia calcistici che umani Perché a cominciare da Facchette A cominciare da Sandro Da Luisito Da Burgis Da Mario Lino Corso E via dicendo Questa è stata una grandissima squadra Questa è stata la squadra Che mi ha Dato lo slancio per qualcosina Perché quando andavo in collegio Prendevo il pullman E mi fermavo Prendevo il treno E poi a Torino In Piazza Marconi Prendevo il pullman Per andare in collegio Avevo 12 anni Viaggiavo già da solo Quanti anni sei stato in collegio? Sono stato 3-5 anni Ti sei divertito? Sì Io sono empatico E c'era un bar Che era il bar di Piazza Marconi Che era il bar Dell'Inter Club E tutte le volte Che già allora Prendevo un caffè Per fumarmi una sigarettina Anche se avevo 13 anni C'avevo davanti Queste foto qua Dell'Inter Va bene Ma hai tifato per una squadra Difatti per me Per me Poi conoscere personalmente È stata una grande Grandissima cosa Eh certo Immagino Un'emozione Hai tifato da bambino Per una squadra? Ma non in particolare Io sono più Tifavo di più per il giocatore Più che per una squadra specifica Ecco Non so Non so se metterai la Juventus dopo Hai messo in Milan Andiamo per ora Il Milan E anche questo Milan qua Non scherzo Ho avuto l'occasione di incontrare Gianni Rivera Poco tempo fa Qua tu lo sai benissimo Abbiamo lavorato con Pierino Prati E l'ho detto Ti lo conosciamo Anche questa Poi ho avuto Trapattone Come allenatore Sono due squadre diverse Sono marito e moglie Diciamo che l'Inter è marito E il Milan è più femminile e moglie Proprio come caratteristiche di squadra E scusa La Juventus La Juventus è moglie E il Torino è marito Ma è vero che a Torino ti fanno più per il Toro? In linea di massima sì In linea di massima sì Vecchie generazioni soprattutto Perché le vecchie generazioni Rimangono ancora attaccate al mito del grande Torino Oppure del Torino di Pulici Graziani In linea di massima Certo La Juventus è più a livello nazionale Chi è questo qui? C'è un'altra foto Vediamo Questo qua è Paolino Pulici Paolino Pulici Eccolo qua Lo scudetto del Toro naturalmente Lui Graziani Non so se Quello dietro Sai che quello dietro è difficile? Quello con la maglia grigia E la faccia da capitano Vediamo se sai chi è No Totonno Giuliano Ah Un grande Napoli Canè Giuliano Altafini Sivo E Barison Vediamo anche la Juve Dovremmo averci anche la Juventus E poi mi dici come sei finito Alla Juventus Questa è la Juve di Boniperti Sì questo è la Juventus Boniperti Di Omar Del grande Omar E di Charles Anche lì una delle mie Più grandi Soddisfazioni È aver conosciuto personalmente Omar Che era una persona Tra l'altro Simpaticissima Di questa squadra In vita ne rimangono poco Forse rimane Castano Che è il primo in piedi Di là Secondo forse Colombo Non sono sicuro Ma come sei finito la Juventus? Ero in collegio E degli osservatori Mi hanno visto E hanno Appena finito la terza media E hanno chiamato Prima al collegio ovviamente Poi i miei genitori Mi hanno fatto fare un provino E il primo contratto? Allora non le facevano ancora Non come adesso E io purtroppo Sono nato nel 57 Fossi nato nel 97 Nell'87 Sarebbe stato meglio Questo divano sarebbe Saresti con la pelliccia qui Mi prende un pellicciotto Con la pelliccia E avrei sicuramente 7-8 orecchini E 25-35 tatuagli Ma perché è cambiato Il calcio di oggi È dovuto anche ai social Alla palestra È cambiata la società È cambiata la società E Onde per cui Si sono accelerati Certi processi Sono curioso di vedere Quali saranno I processi successivi Tipo la Superlega O qualcosa di questo genere Chissà che danni Con i telefoni Che avreste fatto Chissà che danni Con i telefoni Che avresti fatto Io scrivo ancora Scrivi ancora Trappo Va bene Torniamo un attimo Alla Juventus Hai avuto Boniperti Come Presidente Sì Ti racconti qualcosa Del grande Presidente Grande Calciatore Di Juventus Un sacco di aneddoti Con Boniperti Una volta mi ha chiamato In sede E mi ha detto Ma come mai sei sempre Il giorno di notte Sono stufo Di farti controllare Il giorno di notte Io l'ho guardato E gli ho detto Presidente Ma scusi È colpa sua Come è colpa mia Colpa sua Perché mi ha detto Mi ricordo Che mi ha detto Fumi troppo E io ho pensato Faccio fatica A smettere di fumare Di notte C'è meno traffico Esco da mezzanotte E le ciclo Ci sono poche macchine E respiro Meno smog Bella risposta E non se l'aspettava E non se l'aspettava No io ho avuto Tante belle soddisfazioni Tante belle Più gioco Forte il calciatore Compagno di squadra Che hai avuto Penso Platini È dura È dura Che tipo era Platini È una persona ironica Allegra Se prima parlavo di dote Qui stiamo parlando di super dote Ci sono quel gruppo Cioè Sono quei calciatori Che vedono prima Si muovono prima Calciano prima Ma vedono prima Il contesto generale Dello scuola giocata E Gai Da non uscire Eh beh Gai Io lo chiamavo maestro Perché mi faceva vedere Gli esercizi E dicevo che non capivo Mi ne faceva di più E io lavoravo di meno E Gai è stata una persona Eccezionale Una persona empatica Una persona semplice Una persona di Di tanta sostanza E molto meno apparenza Tuo compagno di camera Durante i ritiri Ah io ne ho cambiati tanti Oh te li hanno cambiati Ne ho cambiati Nel senso Me li hanno cambiati Io sono stato in ritiro anche con Zoff A volte sono stato con Con Pradelli Con Roberto Tavola Ma sai allora La Rosa era fatta Di 18 giocatori Adesso Quando una squadra Si sposta Ci vuole un albergo intero A sua disposizione Perché Sono in 50 Sì in effetti Esistono gli alieni? Guarda non te l'aspettavi Cambiamo totalmente Argomento Gli alieni Sì Non quelli con le orecchie verdi Una parte sono esteriori Possono essere esteriori Che sono le correnti Che ti fanno Che ti fanno accadere Determinate cose Sono il vento Che ti fa accadere Determinate cose E una parte Sono Dentro di te Che Sono quelle che ti fanno Vedere la vita In determinate cose Cosa bisogna avere Nella vita? Fortuna Che comunemente è chiamata Ciottolecini Si manca nel calcio Anche nel calcio Perché non sempre Vince la squadra Più forte Delle volte Vince la squadra Più fortunata Delle volte Vince la squadra Più cattiva Delle volte Vince la squadra Più Più furba Da un certo punto di vista Non sempre Vince la più forte Ma è più facile Diventare calciatori oggi Più complicato Rispetto ai tuoi tempi? Sono cose Sono due cose diverse Cioè Il mio tempo I miei tempi Si scriveva col pennino Il calamaio Adesso Si scrive sul tablet Forse No no È difficile Allora È difficile Allora È difficile Adesso È difficile Mantenere Quello che tu Sei riuscito a fare Cosa non bisogna avere Nella vita? La sudditanza Del soldo Che è male Della nostra società Il capitalismo Eh ma no La sudditanza del soldo C'è Tanta gente cattiva Per fare soldi C'è Sono tanti soldi Per fare delle cose cattive Cosa ti ha insegnato La vita? A tenermi A tenermi dentro di me E a raccontarli anche Delle cose buffe Delle cose carine Delle persone eccezionali Cosa Cosa farai Quando non lavorerai più? No io ho cominciato A lavorare Anche a 60 anni No Perché mi sono sempre Fatto questa domanda Nella vita Ma perché Quando tu stai molto bene Cioè sei giovane Hai un sacco di Di verve Tutto Devi lavorare E poi quando vai in pensione Che è 65 70 anni Che ti rimane poco Da vivere Che hai un sacco di acciacchi Non lavori Conviene lavorare Non lavorare Nella parte Dove puoi divertirti E quando non puoi Proprio divertirti Lavori Ti corrego qua e lavoro I calciatori fortunati Vanno in pensione molto presto Quelli fortunati Nel senso Quelli che già Vengono i miliardi No No ma se guarda che la pensione Tu te ne accorgerai Se la prenderai La mia generazione Non lo sa Se la prenderai Te lo auguro Poi devi cercare Di 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 Direzzare il tempo libero Come ti immagini Fra 20 anni No Non ci sono più Fra 20 anni No Sei pessimista Però mamma mia No ma non so pessimista Perché Il termine giovane Quando io ero ragazzino Uno di 40 anni O di 40 anni Era considerato già Maturo Tanto Uno di 60 Vecchio Adesso invece Diamo del giovane Ma è morto a 78 anni È morto giovane Una volta a 78 anni Anche si arriva Non lo so Non riesco a baggiarmi A frammentare Anche perché Ho un sacco di acciacchi adesso E non lo so Posso baggiarmi Con qualcuno Che mi supporta Perché Può sempre servire Può essere comodo Credi nell'aldirà? Non lo so Mi è rimasta sempre impresso Una frase Di un famoso Scrittore arabo Che dice Al termine del suo libro Un attimo Una breve calma di vento Un'altra donna Mi partorirà Di sicuro Credo Nel proseguimento Di E poi Nessuno Nessuno sa Credi in Dio Se è religioso Siamo liberi Qualunque Quali siamo Aperti No 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 Credo in Dio Senza dogmi Però Non con dei dogmi Prefissati Stabilizzati Da altri esseri umani Credo in Dio Perché credo Nella natura Credo nella bontà Credo in tante altre cose Credo che per Essere quello che siamo Sicuramente qualcosa È successo Qualcuno Però sono positivo Ecco Nella vita precedente Chi sei stato Chi eri Chi Sperato L'Altiranno vuol dire Una vita No no Però intendo proprio Il passato Magari Ti sei reincarnato In Domenico Marocchino Ecco Boh Chi lo sa Ma questo Un imperatore No 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 Questo Questo discorso qua Lo si potrà approfondire Lo approfondiranno Sicuramente fra Centinaia Fra qualche centinaia Di anni Quando la psiche umana Sarà completamente Scandagliato O sarà più vicino A quel 10% Che conosciamo adesso Purtroppo è finita Quindi la puntata Mi dispiace Mi dispiace molto Io avrei chiesto Al 300 Sì facciamo caro Poi ci sarà un'altra puntata Con Domenico In quinta serata C'è un'altra più libera L'importante è che Questa puntata Siamo ancora collegati Siamo ancora collegati Ecco Questa puntata Non si veda Come io scendo da qua Mi alzo in piedi Non diremo mai Quando va in onda Ma chi la sta guardando Evidentemente Vuol dire che L'abbiamo mandata Senza tagli Domenico Marocchino Che ritroveremo anche A Nova Stadio Ciao Domenico Grazie a presto A presto Anche con voi Cari telespettatori Israel ti termina qui Ma avremo modo Di intervistare Altri personaggi Però c'è un po' Il look da infermiera Io sono un po' Ciao